ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai vostri video ebbene sia ancora un'altra puntata dedicata ai vostri orologi che diventano i protagonisti tramite voi ma non solamente tramite voi tramite i vostri video quindi come fanno gli orologini a diventare protagonisti ci dovete pensare voi registrate un video anche con lo smartphone però in orizzontale mi raccomando 7 minuti al massimo concisi spigliati diretti no insomma un bel videino poi me lo inviate via mail qua vedete l'indirizzo lo caricate su wii transfer.com e siamo a posto lo ricevo lo guardiamo tutti assieme ora guardiamo anche l'orologio del giorno che oggi in questo casissimo è il mio bellissimo rolex explorer da 39 mm con il quadrante nero la sua sobrietà il suo bel bracciale oyster acciaioso un orologio che indosso con soddisfazione cosa vuol dire indosso con soddisfazione indosso con piacere cosa vuol dire vuol dire che quando so che al polso sono felice ma non felice che sprizzo di gioia felice nel senso relax è capito cesso che ho un bello orologio al polso un buon orologio al polso un orologio per il quale ho speso volentieri quei soldi e quello il punto no cioè arrivare a spendere certe cifre per comprare un oggetto vuol dire che le vuoi spendere vuol dire che quello l'oggetto lo vuoi con tutto il cuore no con tutta la mente quindi spesi bene secondo me adesso discorsi inutili lasciano il tempo che trova come diceva o c min e primo video ciao davide ciao luigi mi sono appassionato al mondo dell'orologeria nel periodo del lockdown e soprattutto poi grazie al tuo canale che è un concentrato di passione e consigli teorici nella scelta degli orologi molto preziosi ti invio questo video per farti due domande la prima riguarda il marchio crea automatic che produce questa referenza a mio parere molto bella a livello estetico e so che ti sta allontanando dai bracciali integrati ma a me piace molto l'unico problema è che il prezzo secondo me è un po eccessivo anche in relazione al movimento e al brand stesso che non ha molta storia per cui ti chiedo un'alternativa a questa referenza con un design simile che ricorda un po il patek sia più economica ma magari che abbia anche un po più senso come per esempio un prx che comunque però si distacca dal dalla forma della cassa quindi sto cercando qualcosa di un po più simile a questo la seconda domanda invece riguarda un marchio più controverso che è venezianico e in questo caso in particolare parlo da del nereide che è un orologio secondo me molto bello dal dal punto di vista del design ma che ancora una volta un prezzo un po un po troppo elevato e un po sproporzionato a quello che offre per cui anche qui ti chiedo qualcosa che si avvicina a questo design ancora una volta un bracciale che ricorda un po il nautilus di patek ma ma sto cercando qualcosa che magari abbia un po più senso a livello di brand quindi come storia e come e come come importanza insomma trovo che la ricerca che emette venezianico non è banale perché producono anche un orologio con il quadrante in avventurina ma credo che comunque il prezzo sia un po troppo elevato in relazione a quello che offre quindi sto sto appunto cercando delle alternative con un po più senso a livello storico su questo tipo di design non so se puoi consigliarmi qualcosa ti ringrazio e alla prossima al prossimo video allora cioè io allora una cosa che non capisco che non comprendo è quando qualcuno va a volere voglio un orologio di questo design e mi fa vedere una marca però di qualche altra marca ok ma perché bisogna andare a prendere quel design lì e darlo a cercare un'altra marca va in quell'altra marca perché si va così no va in quell'altra marca e guardi cosa offre quella marchio che ti piace a te i marchi papabili che ti piacciono a te cosa offrono se ne trovi uno che ti piace se non c'è niente che ti piace vai avanti vai oltre hai capito ma non è che devi sperare di trovare il design di un tipo di orologio in un altro marchio ora poi il discorso lì di venezianico a me i venezianico non mi piacciono per nulla perché non mi piace l'azienda e non mi piace il tipo di marketing che fanno proprio lo a borro però dire che costano tanto non va bene perché non costano tanto rispetto a quello che offrono volendo mi sembra che siamo sotto i mille abbondantemente quel design lì non lo so c'è un semplice orologio con la ghiera girevole stile diver ce ne sono centinaia di migliaia non esagerano centinaia di migliaia di orologi in quello stile lì quel design lì con quelle bracciale lì ce ne sono altri con quel bracciale lì non mi vengono in mente ma ci sono dei zin con un bracciale tipo così o dei non mi vengono in mente ma ci sono ma patina cercano anche da solo per quanto riguarda il primo il primo che non conosco 1800 euro per un orologio che non ho mai sentito in vita mia è un design abbastanza inflazionato quello con il bracciale integrato e ne fanno anche lì una caterva di altri marchi che volendo poi hai nominato il prx piglia il prx a quel punto lì se ti piace il marchio tisso e con uno stile un po diverso se no se lo vuoi proprio simile a quello lì ma ce n'è una marea ce n'è c'è da spendere di meno mi viene in mente di trick te lo ricordi c'è te lo ricordi io me lo ricordo di trick costa tantissimo anche quello basco non si sente più parlare fanno degli eroggi simili ma costano tanto altrimenti i rotary ci sono i rotary regent mi sembra non lo ho accettito anch'io e hanno un design simile se no c'è un altro un altro marchio che fa degli eroggi molto simili a questo diversi ma simili che è herbalen c'è il cap camarade che ho recensito anch'io che è molto simile a questo con il bracciale integrato bla 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 le viti sulla lunetta ma costa 750 cioè almeno della metà di questo se non mi sbaglio quindi insomma se devi spendere dei soldi per dei marchi un po prendi uno che costa 750 piuttosto che uno che costa 1800 dollari vabbè dai prossimo video ciao davide sono saverio del venezuela e vi ho fatto vedere un po della mia collezione di orologi cominciamo subito questo seiko 6103 cioccolatone quadrato bravo giorno in numeri romani vetro acrilico che segue proprio la forma della cassa bello orologio da portare piace tanto ma si tisot navigator t12 movimento 7 8 8 della tisot 24 ore tipo super compressor gioette tipo gym ora mondiale nel nell'interno sì bracciale originale tisot bell'orologio sì un altro tisot che bello questo star 1970 quadrante verde movimento 24 81 la tisot il bracciale non è originale l'ho cercato io volevo mettere un bracciale che fosse consono con l'età dell'orologio ho trovato questo mi è piaciuto tanto l'ho messo ma si ci sta dai bello orologio a portare 39 mm mi grande grande bravo bravo Hamilton estoril 300 estoril trovato qui a caracas una bancarella 35 mm diametro cassa movimento Hamilton 64 interessante orologino le peggiori bancarelle di caracas bravo bostock anfibia ehi bostoccone bravo bell'orologio senza carri armati o elicotteri o aerei treni sul dial come piace a me 39 mm tamaño cassa bello orologio cinturino in cuoio tipo vintage eh un orologio che si porta abbastanza abbastanza bene abbastanza abbastanza bene dai c'è uno zoo eldor fabbrica svizzera che ancora esiste però fa degli orologi proprio brutti 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 questo è a carica manuale 35 mm diametro cassa placato in oro belle leanze così lunghe credo che si chiamano tipo bombai non sono sicuro eh eh non lo so sottile sì sottile il movimento non so che movimento è è firmato a eldor ma non dice più niente è proprio carica manuale non lo so non so cosa dirti caro amico del saverio poi abbiamo questo seiko 709 709 seiko 5 uno è seiko 5 più visti ma si semplicino dai automatico cinturino in pelle anche lui azzurra il bracciale che aveva della seiko proprio faceva pietà e l'ho tolto ho messo il cinturino hai fatto bene poi abbiamo questo nivada nivada anni 60 70 carica manuale compensamatic 35 mm diametro cassa anche lui placato in oro un orologio che si porta abbastanza bene al polso ebbe poi un orologio e credo che il più interessante della mia collezione che è questo qua questo è un universal genev compur del 1900 adesso si infoca bene del 1934 38 millimetri di cassa la cassa tipo colonial o coloniale questo tipo di cassa si chiama così furono le primere prove più che un esperimento le primere prove che fece l'universal genev per avere un orologio con la cassa impermeabile non all'acqua ancora però impermeabile all'umidità alla polvere alla terra forse destinato alle colonie per questo si chiama coloniale ok funziona perfettamente carica manuale e movimento universal genev 285 un orologio raro già che se ne fecero pochi pezzi in produzione dal 1934 fine alla metà del 1935 un orologio che nel mondo dei collezionisti proprio lo cercano abbastanza colpo di fortuna averlo avuto che mi è caduto proprio tra le mani l'universal genev compur coloniale nivada grecci crono master aviator sea diver questo un orologio 38 mm vetro bombato in acrilico proprio un orologino che si porta super bene movimento valjuks 92 la nivada lo sta facendo un'altra volta è una reedizione questo del 1965 su aspetto vintage e unico molto molto particolare bello si e poi abbiamo questo Vulova Acutron Astronaut del 1963 m3 qui sul stampato sul serial non so se funziona ancora perché le batterie non si trovano qui in venezuela le sto portando agli stati uniti e lo stesso con il cinturino cinturino sto cercando quello originale per portarlo agli stati uniti speriamo che funzioni perché come tutti sappiamo il movimento Acutron è un movimento delicato quindi l'ho comprato facendo un fatto di fede poi occhi chiusi vediamo cosa succede e ultimo acchiappo e questo l'altro nivada nivada 1970 cinturino originale nevada ha un movimento out of shield 1950 51 cassa diametro cassa 36 mm proprio si porta benissimo al polso è uno dei miei favoriti qua bello e così Davide questo è tutto dal venezuela e ti seguo da quando avevi la bottiglia di rum venezuelano lì sul bar credo che era pampero è il miglior rum che si fa in venezuela e ti mando un saluto un abbraccio qui dal venezuela e grazie per educarci nel mondo dell'orologeria grazie un abbraccio ma un abbraccio hermano hermano e dalle peggiori bancarelle di caracas sono giunti gli orologi del nostro hermano saverio grande tutti i orologi improntati sul sul vite tutti i orologi anche di marchi conosciuti ma anni 50 60 70 bellissimo poi quello nivada granschen quello lì il cronografo con i due subcontatori che dei quali hanno fatto la ridizione anche giorni nostri quello lì mi garbicchi apparecchio è proprio complimenti vale però sono tutti belli e sono tutti anche universa geneva coloniale lì quello ermetico si direbbe no l'ermetico nel senso che non è impermeabile ermetico nel senso che non fa entrare polvere agenti atmosferici esterni chiaro che l'impermeabilità è un'altra cosa però era poi degli anni 30 cioè rendiamoci conto che fra un pochino siamo al 100 anni e anche lì poi bisognerebbe vedere la divisione del degli oggetti d'epoca vintage oppure antichità da qualche parte ho letto che prima del 1850 si parla di antichità poi dal 1850 un poi d'epoca diventano d'epoca gli oggetti in generale però non mi ha dato sapere quando e qual è il passaggio tra epoca e vintage io direi che potremmo mettere gli anni 30 40 diventa diventano orologi vintage per poi smettere quando a questo a questo punto direi negli anni 80 dopo si entra nel neo vintage cioè quelli quasi di secondo polso che poi sono vabbè dai siamo capiti cosa volevo dire prossimo video vai ciao davide mi chiamo ciao ti seguo da mantova ho iniziato a seguirti nel 2020 durante il lockdown e da allora non mi sono perso nessuno dei tuoi video bravo ho deciso di mostrarti la mia piccola raccolta di orologi per cui iniziamo questo è il primo orologio che acquistai dieci anni fa col mio primo stipendio è un casio rovinatissimo perché l'ho usato in ogni situazione ma non per questo sono intenzionato a non usarlo più ci sono affezionatissimo e tutt'ora uso ancora per l'attività fisica bravo passiamo altro altro questo è un bulova degli anni 70 che mi regalano pochi mesi fa poiché purtroppo è venuto a mancare il suo compagno e lei c'era molto affezionato a questo orologio e non mettendoli ha deciso di darlo a me per ridargli intanto nuova vita e per poterlo utilizzare ancora bello sono sincero non lo uso poiché è un 31 mm è troppo piccolino però penso di tenerlo comunque per il ricordo del compagno di mia nonna ma certo fai bene poi sempre mia nonna sapendo che mi piacciono gli orologi decise di regalarmi questo orologio da collezione di Renato Balestra come puoi ben vedere è ancora chiuso e sigillato nella sua confezione poiché essendo da collezione avrei veramente paura a ruinarlo per cui le sperate sicuramente per tutta la sua vita perché perché ora che abbiamo concluso questa piccola parte della mia raccolta di orologi al quarto passiamo con orologi automatici meccanici questo è stato il primo orologio che decisi di acquistare un classico orologio automatico ed è un classico e banalissimo sego 5 ma ho notato che veramente tantissime persone hanno questo modello e devo dire che pur essendo un orologio entry level e con un bracciale molto scadente mi piace veramente tantissimo il suo quadrante e le sue lancette certo veramente colpito fin da subito e penso sia un ottimo orologio per iniziare un bel orologio certo passiamo oltre ora ti mostro il mio citizen pro master orologio anche questo visto e stravisto e decisi di acquistarlo appunto per l'attività sportiva e per il mare in ferie si può dire che non lo tolgo mai ce l'ho sempre al mio polso ora ti mostro uno dei miei orologi preferiti eccolo bello e mi innamorai fin da subito grazie a te la tua recensione di questo modello poiché le linee gentiane sono veramente fantastiche e questo orologio secondo me può offrire veramente una qualità eccezionale ad un prezzo comunque non troppo elevato yes bello orologio ora ti mostro l'ultimo orologio entrato nella mia collezione cos'è che questo iema è un orologio meccanico il primo orologio caricamanuale che io ho è sottilissimo ed è veramente bellissimo stile militare un bracciale che è molto leggero ma è veramente affascinante bello sai l'ho visto il negozio mi piace molto voglio mostrarti gli ultimi due pezzi della mia raccolta di orologi uno è questo tudor black bay 58 acquistato inizialmente con il suo bracciale in acciaio e pochi mesi fa acquistai anche il suo nato il suo cinturino nato secondo me è bellissimo e lo alleggerisce molto in questo periodo estivo orologio che secondo me tudor ha veramente preso in pieno l'ultimo pezzo che voglio mostrarti della mia raccolta è questo rolex explorer da 36 mm orologio secondo me è classico sportivo e ricco di storia appena mi hanno chiamato in concessionaria per andarlo a ritirare ero veramente al settimo cielo poiché è secondo il mio punto di vista uno degli orologi più belli che in catalogo rolex detto ti voglio ringraziare davide grazie a te spazio che dedichi ai tuoi follower sul tuo canale e non ho nient'altro a dirti continua così sei un grande love love peace and love bravo belli orologi agli ultimi due li un bel tudor black bay e un rolex explorer che sono la ciliegina sulla torta no due belli orologi da indossare con veramente piacere più poi andiamo sugli altri level dove c'è il classico pro master e classico 6x5 che hanno anche loro perché insomma hai fatto tutti gli orologi di hai scelto tutti gli orologi con un certo senso con un certo gusto mi permetto di dire gusto che poi sarebbe il mio anche anche maurice lacroix infatti è molto carino bello bell'orologio si fatto bene delle finiture peccato che mi sto un po allontanando da quelli da quegli stile mili perché anche perché con il bright in cronomat gmt quando lo indossi il polso sembra quasi di avere un orologio con il bracciale integrato cioè ha talmente una presenza al polso così esplosiva con quel bracciale orologo a cartucera che sembra quasi che è un orologio con bracciale integrato quindi la soddisfazione la voglia di quella tipologia lì riesco a togliermi con quel bright lingli cronomat che però ha dalla sua il fatto che non ti ricorda nessun'altra forma gentiana no poi c'è anche l'omega constellation 15 gli orologi con bracciale integrato stile così ce li ho quindi mi sono un po stufato di quelli che si vedono più come delle raffiche diciamo così poi una menzione particolare a renato balestra orologio in plasticato al quarzo che quello lì hai coraggio continuare a tenerlo e soprattutto hai finalmente mostrato a qualcuno il tuo altarino no lo scheletro nell'armadio lo tenevi nascosto lì e a un certo punto la boccina dentro ti ha detto devi fare outing farlo vedere a qualcuno no devi liberarti da questo peso e ci hai fatto vedere il renato balestra al quarzo il tutto il celofanato come cioè il celofanato incartato come se fosse un un accendino di quelli che vendono mamma mia prossimo video salve davide sono fabio dal monte argentario nella marina toscana vado velocemente a farti vedere i miei orologi vai come avrai capito sono un appassionato di orologi citizen la mia collezione è solo ed esclusivamente di orologi citizen minchia la mia passione nasce proprio dal mio primo orologio che ho posseduto che è un citizen windsurfing che purtroppo non è più il mio possesso perché l'ho perso in mare meno male e comunque da quell'orologio è nata la mia passione per questa per questo brand diciamo che è continuata nel tempo fino ad oggi il primo orologio che vado a mostrarti è questo eco drive pilot questo orologio ha quasi 20 anni funziona benissimo non è mai stato revisionato penso che sia conosciutissimo ormai è diventato un orologio iconico del brand citizen quindi non ha bisogno di tante presentazioni il secondo orologio che ti faccio vedere è questo eco drive della serie urban sempre resistente all'acqua 200 metri con corona il fondello a vite è un orologio che richiama molto lo stile militare attenzione fateci caso e adesso io quando quando continuo a andare il video la lancetta dei secondi che riesce a centrare gli indici dei secondi e precisamente non è non è da tutti e ci sono orologi costosissimi c'è la normale tolleranza no di non riuscire a anche il prx dati sono mi sembra che lo fa in certi indice dei secondi lancetta dei secondi e lo salta così questo è precisissimo bravo bravo in compenso c'è il datario che sembra la via di codena per andare alle cave cioè centrata tutta sinistra e tutto un basso e vabbè non si può voler tutto dalla vita da io ho sostituito il suo cinturino originale con questo nato verde militare il suo cinturino originale molto simile a questo solamente che alla parte che è a contatto con il polso in pelle io ho visto che lo uso molto in acqua per preservare il cinturino originale ho preferito sostituirlo con questo nato qua è un orologio molto semplice ma simpatico 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 terzo orologio sempre un eco drive in questo caso un diver 200 metri di resistenza all'acqua corona e fondella a vite questo orologio particolare viene denominato Excalibur per la forma delle lancette un orologio semplice ormai da molti anni in catalogo citizen la sua particolarità di questo modello è il cinturino in silicone molto morbido quasi impercettibile al polso che lo rende molto molto comodo quarto orologio altro eco drive altro diver sempre corona vite e fondello a vite particolarità di questa corona ad ore 4 un bel verde sia il dial che la ghiera la particolarità di questo cinturino in silicone che è molto più rigido rispetto a quello che ti ho fatto vedere prima e riporta i dati per il calcolo dell'immersione un classico di citizen quinto orologio sempre un eco drive sempre stiamo parlando della riedizione dell'orca un classico di citizen per gli amanti dell'attività subacquea è un orologio massiccio per polsi importanti io me ne sono subito innamorato appena l'ho visto perché sono un amante di questo stile e l'ho subito acquistato penso che sia uno dei diver più belli di casa citizen ma come belli è brutto ultimo orologio che ti faccio vedere che è anche l'ultimo mio acquisto sempre un eco drive sempre un diver ma questa volta stiamo parlando di un 300 metri di resistenza all'acqua anche questo logicamente corona vite e fondello a vite cinturino in silicone anche questo un orologio molto massiccio per porsi importanti sempre comunque nello stile che mi piace molto e mi ha subito colpito come avrai ben capito ho sposato appieno la filosofia eco drive di citizen stiamo parlando comunque di orologi al quarzo stiamo parlando comunque di orologi come dici tu a batteria ma un po più particolare citizen ha fatto del suo eco drive un punto di forza da moltissimi anni un punto di forza che io condivido pienamente sono tutti orologi che tutti si possono permettere di fascia medio bassa di ottima qualità non tutti si possono permettere orologi di fascia alta non tutti come me per esempio che faccio l'operaio possono permettersi orologi di un certo posto hai comunque con citizen eco drive un orologio di qualità bello e valido complimenti per il tuo canale da parte mia e da parte del mio amico angus ti saluto e ti mando un abbraccio saluto te e tutti gli iscritti al canale ciao un salutone un salutone se ti dico che non me ne è piaciuto nemmeno uno ti offendi no se nel senso beh ce l'ho anch'io ce l'ho anch'io un citizen eco drive che me l'ha regalato un amico piero blu bello l'ho indossato anche queste estate diverse volte al mare 100 metri di impermeabilità con una pressione funziona benissimo ok uno no io non invece non non concepisco a mio permesso parlando per me è una concessione una diciamo collezione monomarca e soprattutto monocalibro poi invece te hai scelto così e va benissimo così ti ammirò perché riesci a farlo io non ci riuscirei no tutti i citizen tutti eco drive che poi abbiamo detto a batteria ma in realtà tecnicamente non è a batteria è accumulatore però la batteria contento te contenti tutti nel senso ammiro il fatto che tu sia riuscito a mettere tutti insieme tutti questi orologici che costano poco poco io penso che il pilot radio controllato la del titanio non costi poco poco comunque gli altri costano tutti mediamente poco quindi è accessibile a tutti ed è meglio sicuramente avere una collezione di questo tipo che non andare a cercare orologi meccanici entry level di marchi improbabili che copiano altre altre marchi più famosi meglio è meglio è meglio la tua collezione sicuramente ma non ti viene voglia di deviare un pochino magari prendere anche qualche seico al quarzo qualche seico solar qualche casio cioè non dico di andare di sforare nella meccanica che per l'amore del cielo sia mai ma almeno cambiare un po marchio allargare un pochino il cerchio no pesaci perché magari sempre rimani nell'ambito giapponese e ti diverti con tutta quella roba di orologi lì solar radio controllati quarzi a lì vai avanti tutta la vita comprare quegli orologi prossimo video ciao davide sono gabriel ho 22 anni e volevo mostrarti la mia collezione di orologi collezione iniziata un paio di anni fa quando già da un annetto seguivo il tuo canale guardavo i tuoi video assieme a mio zio per questo vi volevo ringraziarti perché sei stato un motivo di unione mi è successo anche di recente di parlare con persone solo dopo aver notato un orologio un po' particolare gli dice ma bello segui davide cecchini quindi subito due ore a parlare di orologi bene oh mi fa piacere essere anche motivo di di conoscenza tra persone di community no vedi uno ci impari incomincia a parlarci di orologi e poi due ore a parlare di orologi bravo e se non ho capito male ha iniziato a guardare i miei video senza avere neppure un orologio anche questo è un motivo di soddisfazione per me cioè nel senso che non è che ti ho invitato a comparare gli orologi però quando uno guarda i video se un qualsiasi argomento se ha la passione dentro sopita gli viene fuori ci vuole il motivo che fa scaturire il tutto no quindi vuol dire che la passione l'avevi già guardando i video poi ti è venuta fuori è venuta a galla e è cominciato a giocare con questi simpatici orologi no comunque il mio primo orologio è stato un bulova a cuore aperto quello simile a quello del tuo amico piero poi mi ne sono sbarazzato bravo prendendolo bene e prendendo questo tisso da 39 mm età 2834 maglie piene accioio a 316l vetro zaffero insomma buon everyday watch ne sono rimasto molto contento e c'è successivamente ho preso questo vagari gmatic su cui ho montato questo cinturino stile troppi con tropic mi sembra che ci stia molto bene si si poi avevi parlato bene quindi sono andato a colpo sicuro insomma bravo successivamente ho fatto revisionare questo giro al pergo da 34 mm in oro questo è il lasciato di mio nonno qui ovviamente sono molto legato qua a torino però è tra l'altro molto diffuso quanto la fiat dava gli dava ai pensionati ho capito e infatti sul fan de lui c'è scritto 30 anni di lavoro in fiat molto bello ah sì non è non è per il pensionamento credo funzionava non so se funziona ancora che quando raggiungi i 30 anni di servizio alla dipendenza dello stesso datore di lavoro naturalmente grande deve essere una una fabbrica grande come la fiat o come magari l'ilva o altre cose 30 anni c'era un premio o lo stipendio doppio oppure in questo caso un orologio d'oro e credo che sia quella la l'occasione non la il pensionamento che il pensionamento e l'altra quest'anno poi ho preso questo studiosa attendere circa tre mesi anche questo avevo sentito che ne parlavi bene ma si prendiamolo questo quadrante mi ha stregato ma carino grande perché avendo un polso da su cui il gira per rego sta appena bene 40 mm è una bella sverla però va bene insomma ci sta ultimo arrivo invece è questo non è una still live o i tuoi amici di still life è un seiko 5 sport carino l'ultima colazione insomma ero lì che volevo prendermi un skx 013 però per prenderlo usato alla fine ho optato per questo che ma va benissimo 100 metri ma andandoci al mare a fare il proprio giusto il ban va bene va bene va bene lo userò tra qualche giorno dalle due parti ah bravo concludo mostrando ti la mia collezione per intero bravo scorda ho dimenticato solo questo casio se c'è l'uso a lavoro l'ho perso ma l'ho ricomprato subito in quanto iconico indispensabile per leggere un'ora però mi piace e invece il mio primo orologio è stato sempre un casio un g shock per il quale venivo deriso in quanto gigante per il mio polso mi chiamavano ben tenne come il cartone animato volevo chiederti se questa collezione ti piace insomma se la trovi un buon inizio ciao davide un saluto un saluto a te non è un buon inizio è un ottimo inizio ai 5 orologi giraperego è diciamo il fuoriclasse di un altro livello gli altri sono orologi entry level ma che hanno tutti un senso e tra l'altro se un domani ti stufi no perché vuoi prendere un orologio da 400 500 euro ne vendi uno due tre o due fai di 200 euro che c'è di fare o quello pochi ci rimetti qualcosa sopra te ne prendi uno a livello superiore è così che funziona no quando una volta che ce n'hai sei sette otto nove di entry level quelli da 100 200 euro dopo a certo punto dice allora se vendo uno due tre quattro vendo questi quattro qua mi ci faccio 400 euro ce ne metto su 200 mi prendo magari un altro orologio che costa 600 boom e si va avanti così no cioè non è che sono buttati via quelli degli orologi entry level certo che si va avanti tutta la vita poi puoi anche andare avanti tutta la vita a comprare i vagari da 100 euro cioè nessuno ti pieta niente come l'altro amico c'hanno tutti gli orologi al quarzo giù di lì 100 200 cioè ognuno scelga comunque va bene va bene approvata promosso la tua collezione promossa ciao davide ti voglio presentare questi miei orologi che produco io artigianalmente parto subito dal primo che è questo qui cassa realizzata completamente in ottone e poi placata argento 37 mm di diametro per 12 mm di spessore fondello a vite e anche corona a vite il quadrante l'ho realizzato io movimento nh35 di derivazione seico in questo caso sono partito da un disegno che eccolo a fuoco sono partito da un disegno oddio non mi sembra proprio un disegno tecnico di quelli fatti al CAD però va bene separito da un disegno mentre invece in quest'altro caso qui sono andato un po a fantasia durante la realizzazione ho cambiato più volte il disegno anche questo è completamente in ottone e poi placata in argento 37 mm anche lui di diametro per 12 di spessore corona a vite e fondello a vite non so se eccola anche lui placato argento evitare anche in questo caso il quadrante l'ho realizzato io come puoi vedere sui quadranti c'era scritta 11 perché sono tutti pezzi unici e non ce n'è mai uno uguale all'altro ho una pagina su instagram aspetta che metto a fuoco che lo perde ho una pagina su instagram si chiama orologio russo spero che questo video riesca a darmi un po di visibilità ti ringrazio spero che ti siano piaciuti ciao ciao vabbè abbiamo fatto un po di pubblicità a questo amico qua che tanto non è che mi sembra che faccia orologi a livello industriale per vendere per fare business modello 1 di 1 modello 1 di 1 sono anche carini e cioè sono anche carini la cassa in ottone poi placata in argento sono anche carini a parte se posso permettere il nome lo russo sul quadrante che non si può sentire no orologi lo russo a me non è che mi che mi garba tanto vabbè comunque è una tua scelta e penso belli l'orologio sono belli ha fatto e sono particolari il primo è abbastanza classico no abbastanza classico con quel design lì con le sfere d'offe secondo invece completamente fuori dal normale ma talmente fuori dal normale che è carino tutto tondo con quella mi piace sono promossi questi due poi bisogna vedere se funziona non è perché te li fai poi non lo so non sei mica orologiaio se orologiaio no vabbè comunque orologi lo russo non si può sentire per me mi spiace ma boh mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino qua ad aver guardato i video con me spero vi siano piaciuti gli orologi lo russo e vi ricordo gli appuntamenti fischi come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love grazie a tutti